Sì, noi sin dalla prima edizione abbiamo fatto il festival qui alla Marina, perché è un quartiere che ci piace tantissimo, abbiamo trovato un'ospitalità davvero importante, gli operatori della Marina hanno avuto entusiasmo fin dall'inizio e ci hanno appoggiato. La Salmarina, l'hotel Reddita Margherita, l'hotel Miramare hanno accolto gli ospiti che noi abbiamo invitato durante il festival, il quartiere ha reagito bene e la conformazione del quartiere è ottimale perché ci sono disponibilità diverse location che possono essere utilizzate per le proiezioni e per la creazione di altri momenti di interno tra giurati, autori e pubblico.